Abbiamo approfondito un piccolissimo aspetto della storia dei voci, cioè una leggenda di una fanciulla antica che viveva dalle nostre parti, forse tantissimi anni fa, e loro hanno illustrato questa leggenda e adesso ve li va. Ringraziamo la preside di l'Istituto Superiore, professoressa Patrizia Carfagna, per averci dato l'opportunità di fare questa esperienza di laboratorio l'incerata, inoltre ringraziamo le nostre insegnanti, Daniela Fiorini e Silvana Baltano, e soprattutto la professoressa Marina Longo, attraverso la storia della Vergine Camilla, una giovane principessa dei voci, Grazie alla professoressa Longo abbiamo imparato a nuove tecniche di laborazione della Vergine Camilla e ci hanno permesso di rappresentare la leggenda di Camilla e di riprodurre alcune giovani e rari degli antichi abitanti del nostro territorio. La leggenda di Camilla La storia del re di Tarbo, re dei volci, e di sua figlia Camilla, che vissero a Piverno, sono andate nelle medie di Virgilio. Il re Tarbo non era ben visto ai suoi subiti e un brutto giorno il popolo si riberlò in base alla reggia. Il re prese la soffioletta Camilla, appena nata, e fuggì, attraverso il bosco e giunse sulle rive del fiume Amaseno. L'impeto delle acque gli impedive di attraversare a nuoto il fiume con sua figlia ed è venita femminina. Prese una corteggia, la bozza intorno a Camilla e l'alleguò ad una lavaggio. Ma prima di agire, rivolge una preghiera all'Aterriana, sedente nella vincola, poi scogliò sull'aria a porto del fiume e la lancia con il terra in un fattello. Poi un e-tampo si gettò nelle acque impitose, le attraversò e giunta all'altra riva la colse Camilla. Camilla imparò a nutrire la propria figlioletta con il lato delle cavalli sul palco. Camilla imparò a prendere la piccola cavacalosa nel lancio e arco, l'idea dell'aniana che il padre l'aveva consagrata. Camilla era una bella macchina sempre a cavallo per combattere al fracolo di chi la cercava. Dopo la morte del padre, Camilla, con il gruppo di Amazoli, decise di conquistare il governo, diventando lo stileggimento e veloce. Camilla imparò a prendere il nostro palco. L'hanno sposata, ma lei era proprio fatto da padre a madera, così continuava solo a combattere e uccidere i suoi figli. Camilla diventava sempre più amici, sia nella caccia che nel combattimento. Quanto si era accendendo, non si è pronta di sentire il suo popolo. Un giorno, durante il combattimento, Camilla vede un guerriero che russava un mantello e delle armi d'oro e decide di conquistare quell'armatura. Durante l'assalto, perse la sua armatura di bronzo e si rese vulnerabile. Infatti, fu colpita a morte da una freccia. E così termina la storia della Vergine Camilla. E noi abbiamo preso ispirazione per realizzare questi passaggiori. Grazie. Grazie.